Ma non si è parlato del dolore, della sofferenza delle persone. Basta con la cecità disumana, basta con il cinismo, basta con la politica del gradualismo. Ci sono troppi dolori, troppe sofferenze, troppe persone che ogni giorno si sentono di soffocare per via di disuguaglianze, perché sono esclusi, perché sono invisibili. E questo gesto è uno sciopero della fame e della sete per dire al governo di assumere tre provvedimenti. Su tre provvedimenti che chiediamo, un piano di emergenza nazionale. Ma c'è una politica che ancora non riesce a sentire questa necessità, perché manca audacia, manca visione, manca la capacità di medesimarsi nei dolori, nelle sofferenze delle persone. Siate assorti ai dolori di milioni di giovani, di precari, di disoccupati, di astrusi, di e ma c'è un'esercitato che si riuscendo anche una città di una scuola,